Luca ha scritto un libro, stando in carcere, e questo libro sta cercando veramente una casa editrice per pubblicarlo e poi con il ricavato soddisfare le richieste delle parti civili. Il suo intentimento è quello di iscriversi all'Università di Macerata, se è possibile, per fare il corso di scienze politiche. Così Giancarlo Giulianelli, avvocato di Luca Traini, il trentenne di Tolentino, condannato a 12 anni di carcere per aver sparato il 3 febbraio 2018 a 6 persone di colore, 5 uomini e una donna, per le vie di Macerata a bordo della sua auto. Traini doveva affrontare il processo davanti alla Corte di Appello, ma tutto è stato rinviato a 2 ottobre per un impedimento del Presidente. Il trentenne è stato condannato in primo grado per strage aggravata da odio razziale, ma la difesa respinge le motivazioni della sentenza. Noi abbiamo cercato di smontare tutta l'argomentazione della sentenza di primo grado, soprattutto per quanto riguarda la questione della strage, che noi riteniamo non sussistere, per quanto riguarda anche poi le altre fatti specie, anche la odio razziale e soprattutto la perizia psichiatrica. Ho chiesto la rinnovazione dell'istruttore di battimentale chiedendo una rinnovazione di perizia psichiatrica. Io credo che la sentenza di primo grado sia stata una sentenza più che equilibrata. Le motivazioni su cui si basa l'appello dell'imputato ritengo che siano assolutamente infondate, così come la richiesta di rinnovare la perizia. Per quanto riguarda i miei assistiti hanno riportato delle lesioni estremamente gravi e quindi c'è un'aspettativa di affermazione di giustizia sicuramente molto forte, non solo dal punto di vista della colpevolezza dell'imputato, ma anche dal punto di vista della corretta ricostruzione delle motivazioni, a nostro avviso di matrice sicuramente razziale.